Che culo ho salvato Mazza che culo Il mio computer è un genio Questo cos'è? Posso? Eeeh Vabbè Sono piena di resurrezione e non ne ho mai usata una Che culo Dai ammettetelo Non sono stata bravissima Però almeno non sono morta Ecco Ecco Oh quante scale Sono così inutili le scale Fate tutto piatto Cazzo Bulletto da pagare Eeeh cazzo Papà Non c'è tanto tempo 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 Intelligenti Lasciarli morire a norti Lasciarli morire a norti 3 milioni Non c'è tanto tempo Eeeh cazzo Eeeh cazzo Ma dai! Paula. Ma mia figlia Giulia è morta da i dinossi. E a mia amore figlia... ...eva bruciata. ...Immeno. Paula. 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 Mi sembra una mongola. Quei capelli di merda che aveva e che ha. E' il papa. Al momento dovrebbe dire dead, non papà. Però vabbè. Mi gruppo. I've kept Paula and the other children safe... ...by putting them inside life support chambers. ... 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